Addio Lega, dopo tanti anni di passione ed emozioni poteva finire meglio. La vita è imprevedibile, l'importante è non cedere mai alle prepotenze e alle ingiustizie e nelle Marche ne sono successe tante da scriverne un libro. Ha salutato il suo partito con queste parole il consigliere regionale Roberto Zaffini che dopo 21 anni di appartenenza al partito, sabato 30 agosto, ha deciso di pubblicare con una foto un post sul suo profilo Facebook. Parole arrivate dopo la scadenza dei dieci mesi dalla sospensione dalla Lega Nord, infatti ad ottobre del 2013 fu sospeso all'unanimità dal Comitato Federale Disciplina e Garanzia e a darne l'annuncio fu l'ex amico, il segretario regionale Luca Rodolfo Paolini. Nel 2013 Zaffini è stato sospeso non da me ma dal Consiglio federale per alcune violazioni statutarie, ad esempio si era impegnato a versare i contributi, non gli ha più versati, il Consiglio federale ha espulso un signore per gravi ragioni e ha continuato a tenerlo a lavorare lì. E per dichiarazioni molto singolari, tipo quelle di aver definito Pirle Cornuti parlamentari leghisti, essendo gli stessi stato parlamentari e altre cose che sono comunque comprese in questo provvedimento, che lui ovviamente si guarda bene dal pubblicizzare perché lì c'è scritto tutto. Tramito i social network lei ha chiesto le dimissioni di Zaffini. Sì, io ho chiesto le dimissioni, non credo che le darà ma perché uno che è eletto grazie ai 45 mila voti del partito e non certo alle 1600 preferenze con cui non si va in regione, dovrebbe sentire il dovere morale ora che si è dimesso e non è stato espulso, altra cosa che è falsa e che racconta, dalla Lega dovrebbe lasciare il posto il primo dei non eletti. Non credo che lo farà. Invece una cosa mi preme precisare, cioè che l'uso come vero e proprio manganello dei social network che fa questo signore mi ha bannato, cioè io non vedo quello che dice di me, non posso replicare e ha bannato quasi tutti i miei amici conoscenti diretti. Quindi racconta delle cose che io non so e non posso sapere a meno che qualcuno me le giri. Una che è uscita ieri sul carlino che è veramente grida vendete è la seguente. Dice che io ho espulso tre persone che non sono state espulse da me ma dal Consiglio federale, tra parentesi, o nazionale e dice soprattutto che un certo signor Simonetti sarebbe stato tra questi. Questa è la lettera di dimissioni datata 3 aprile 2012 in cui il signor Simonetti dice comunico le mie dimissioni, consiglio definitivamente conclusa l'attività politica, ti prego di inoltrare per conoscenza la presenza segretario nazionale onorevole Luca Rodolfo Polini. Io mi tutelero in giudizio perché se uno non ti consente di sapere quello che dici e di poterti difendere il cittadino per bene ha l'unica arma da rivolgersi all'autorità giudiziaria. Intanto Roberto Zaffini per non alimentare ulteriormente le polemiche ha preferito non rilasciare dichiarazioni ma allo stesso tempo sottolinea che il segretario Paolini non ha mai mostrato i bilanci della Lega Nord Marche, nemmeno alla richiesta inoltrata da tre membri del direttivo regionale che ne avevano il diritto. Si tratta di centinaia di migliaia di euro tra i quali c'erano anche i miei, precisa Zaffini in una nota, dato che in poco più di due anni ho versato al partito oltre 49 mila euro. Non si accusa nessuno, conclude, ma ci sembra grave perché si tratta di denaro pubblico. L'ormai ex leghista ora sembra pronto ad entrare in Fratelli d'Italia, Allianza Nazionale.